Pino Di Meo è il nuovo allenatore dell'Olimpia agnonese. Il tecnico di Trani ha praticamente trovato l'accordo con i fratelli Colaizzo per tornare al timone del club Granata. Allenatore di grandissima tempra ed esperienza, Di Meo torna ad Agnone due anni dopo. Nella stagione 2015-2016 infatti il trainer pugliese subentrò a Silvio Paolucci nel mese di febbraio, rilevando una squadra in grandissima difficoltà sia moralmente sia di classifica. Ultimo posto con 18 punti insieme al Giulianova. Esordio il 7 febbraio nella sesta di ritorno 0-0 a Disernia nel derby. Da quel momento una cavalcata incredibile, 22 punti conquistati in 11 giornate con la media di due a match. Una serie di risultati incredibili che portarono l'Olimpia agnonese alla salvezza diretta a quota 40 punti. Insomma un ricordo importante lasciato in Alto Molise. Lo stesso Di Meo anche lo scorso anno ha ottenuto un risultato analogo a quello con i Granata, precisamente a San Marino. Rilevata la squadra in piena zona play-out, il tecnico ha portato il team della Serenissima Repubblica ad una salvezza con netto anticipo. Lo stesso mister cercherà in collaborazione con la società e il direttore sportivo d'Ottavio di sistemare la squadra, anche rivisitando l'organico. Al vaglio la possibilità di intervenire sul mercato qualora ovviamente ci siano le condizioni necessarie. Esordio domenica al Civitelle nello scontro diretto con la Recanatese. Necessario muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive. La società Granata ha voluto ringraziare l'ex tecnico Candido Bucci. Un cambio sofferto ma necessario, queste le parole del club. Sicuramente un avvio negativo ma condizionato in primis da un avvio della preparazione in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia e poi da una rosa sicuramente incompleta nel reparto offensivo. L'addio improvviso di Fioretti ha lasciato una casella vuota non di poco conto e infatti non a caso sono state solo quattro le reti realizzate dall'Agnonese di cui due a tempo scaduto e il risultato già maturato precisamente all'Aquila e domenica scorsa ad Avezzano. Sicuramente proprio in avanti il nuovo tecnico di Meo cercherà qualche nome utile per offrire almeno un'alternativa.